Buongiorno a tutti ragazzi, ben ritrovati. Oggi volevo fare un video di presentazione al mio canale YouTube. Io sono Fabio e gioco più o meno da Clash of Clans da un anno e mezzo. Ho finito poco tempo fa di fare tutti i potenziamenti, come potete vedere tutto manetta, tutto maxato. E come primo video volevo farvi vedere due strategie di attacco, che si può utilizzare in qualsiasi lega, ma è utile per le leghe che danno tanta ricompensa, quindi più o meno la lega del cristallo 1 in su. Uno è quello di fare il 50%, come ho fatto in questo video, utilizzando sempre barbari e arcieri. Si mettono i barbari, io utilizzo due dita e poi gli arcieri. dietro che vengono difesi dai barbari. E poi i reali in modo da completare il 50% in maniera molto veloce. Andiamo a 4. Ok, ho messo i reali. Utilizzo le abilità dei reali quando sono vicino al 50%, in modo che una volta che finisco l'attacco hanno riconquistato la vita e c'è poco da attendere. L'altro attacco era questo qua, che con la ricompensa ha raggiunto 300.000 di oro, un 230.000 di elisir e un 1.400 più o meno di elisir nero, sfruttando i municipi fuori e i villaggi inattivi, come per esempio qua, come si può notare, miniere e elisir. Andiamo avanti. Quindi 4-5 barbari in modo da uccidere e devastare il municipio e poi re barbaro e regina sempre dietro i barbari e i arcieri in modo da cercare di prendere anche i depositi, come potete vedere. Ok, un saluto al mio clan D-Max, a cui solo Lappo ha salutato, che è lui che mi ha invitato nel clan, in cui mi trovo molto bene, abbiamo 61 guerre vinte e facciamo una guerra a settimana, se volete venire accettiamo municipi intorno al livello 90-100 e siamo un clan ben organizzato, più o meno tutti sopra il livello 100 e boh, se vi è piaciuto mettete un like alla pagina, al mio canale e non mancheranno futuri video, penso di farne a breve un video in cui farò degli attacchi tipo Gopi oppure Tacking War, farò vedere magari attacchi a 3 stelle, da Municipi 9, eccetera, oppure anche Attacking Live. Grazie a tutti, ciao!